Ciac! Amici, oggi parliamo della seconda puntata della seconda stagione di bellezza italiana di Perugia. Perugia è la città bella, la città universitaria degli stranieri, la città della cultura. Perugia nel corso dei secoli ha avuto varie dominazioni, a partire dagli etruschi, che lasciarono a Perugia tre importanti monumenti. L'arco etrusco che fortifica la città, è un grandissimo arco, quasi incastellamento. L'ipogeo dei Volumni, che è una tomba aristocratica con diverse tombe e statue. E' la tomba di San Manno, che è una tomba a copertura, a volte a botte, dove venivano sepolti degli aristocratici perussini. Poi nel Medioevo Perugia si fortifica grazie alla chiesa, perché se vedete Perugia ha delle chiese importanti. Pensiamo al Tempio di Sant'Angelo, a forma circolare, con colonne e l'altare centrale, simile al periodo paleocristiano Santa Costanza, Santo Stefano Rotonda a Roma, è simile a quelle architetture. Poi abbiamo la chiesa di San Bevignate, che è un santo patrono di Perugia. Se pensate, in questa chiesa ci stanno alcuni affreschi raffiguranti dei guerri, guerrieri che combattono il leone, il guerriero morente. Ci stanno vari affreschi in questa chiesa bella di Perugia. Poi ci sta pure un'altra chiesa molto bella, che è la chiesa di San Domenico, che è molto ricca d'arte dentro. C'è un bel chieso rinascimentale dentro, molto bello. E vediamo pure che dentro la chiesa di San Pietro ci stanno delle opere importanti, tra cui un altare di Agostino di Duccio, con dei bassorilievi molto belli. E troviamo pure la tomba di Benedetto XI, di stile medievale e gotico, architettura prima la tomba e poi un'architettura a guglie. Poi vediamo che a Perugia si istituisce il Palazzo dei Priori, che è il palazzo dei governanti di Perugia. I Priori erano i governanti di Perugia, pure i commercianti. Se vedete all'interno del Palazzo dei Priori c'è il collegio della mercanzia, con decorazione a legni intarsiati, c'è il collegio del cambio, che è famosa per la sala delle udienze, che è stata affrescata dal Perugino, con scene delle virtù cardinali, teologali, storie della città di Perugia, scene mitologiche. Lo stile rinascimentale perugino, perché è famoso? Perché tiene tre maestri, Signorelli, Pinturicchio e Perugino, che hanno formato a Raffaello questi maestri. Poi vediamo che c'è pure l'oratorio di San Bernardino, che è molto importante perché tiene una fasciata scolpita da Agostino Di Duccio, che è un altro maestro rinascimentale, che si ispira a Donatello. Agostino Di Duccio fa gli angeli musicanti, la Madonna col bambino, i santi patroni di Perugia, San Dercolano, San Costanzo. Gli mette tutti nei bassorilievi dell'entrata, che è un arco con una copertura spioventi. Molto bello, vi consiglio di andarlo a vedere. Poi l'altro posto bello di Perugia, che richiama l'arte rinascimentale, è la Cappella di San Severo, che contiene il giudizio universale fatto sia dal Perugino e dal suo allievo Raffaello Santi, detto Raffaello, che tutti conoscete come l'autore delle stanze vaticane. Perugino collabora in alto, con il Cristo e alcuni santi, e in basso lavora Raffaello, con i santi patroni di Perugia. Poi abbiamo il Duomo, che è molto bello perché tiene alcune opere importanti dentro, tra cui la deposizione del Barocci, che è un maestro manierista, che lavora molto sui colori tenebristi, perché pensiamo che il manierismo si forma sulla controriforma, e la controriforma dà osservazione alle opere, cioè l'educazione all'evangelizzazione attraverso le opere. E quest'opera è molto bella perché si trova nella cappella del sacramento del Duomo di San Lorenzo a Perugia. E nella chiesa di Perugia troviamo pure un'opera del Signorelli, che è la Pala di Santo Onofrio, che però mostra il tesoro del Duomo di Perugia. E questa è un'opera molto rinascimentale. Poi vediamo che fuori dal Duomo ci sta una bella statua di Vincenzo Danti, di Paolo III Farnese, che fece la Rocca Paolina a Perugia per fortificare la città. Poi vediamo che c'è pure un pulpito molto rinascimentale, da dove predicò San Bernardino da Siena. Però ricordiamoci che all'interno di Palazzo dei Priori, oltre al Collegio della Mercanzia, oltre al Collegio del Cambio, ci sta pure la Sala dei Notari, che è famosa perché è stata affrescata nel 300 da un maestro dell'espressionismo di Santa Chiara, che è un maestro che si ispira a Giotto, a Cimabù e a Simone Martini, grandi del 300, e fa scene di mitologiche, scene... il grifone, che è il simbolo di Perugia, molto bello. Ma Perugia è bella perché all'interno della piazza tiene la fontana maggiore, che è la fontana fatta da Nicola e da Giovanni Pisano, che sono i due scultori maggiormente del gotico italiano. E loro raffigurano negli scomparti scene tipo dei mesi, dei mestieri, della dialettica, della filosofia, cioè delle materie dell'epoca. Perugia ha pure due musei importanti. La Galleria Nazionale dell'Umbria, che è bella perché tiene alcune opere del Medioevo e del Rinascimento, tra cui il crocifisso del maestro di San Francesco, la Madonna col bambino in trono e gli anceri musicano i gentili da Fabiano, poi ci sta il politico di Perugia di Beata Angelico, poi ci sta il politico di Sant'Antonio di Piero della Francesca, poi ci stanno due opere di Perugia e del Pinturicchio, i due capostipiti del Rinascimento Umbro, che sono il politico di Sant'Agostino del Perugino, una bella forma architettonica, molto bella, e colori molto vivaci, c'è l'adorazione dei pastori, il Cristo sofferente, i Santi di Perugia, poi abbiamo il politico di Santa Maria dei Fossi del Pinturicchio, che è un altro maestro che lavorerà a Roma, e a Siena, soprattutto alla libreria Piccolomini. Poi ci sta un altro museo che è il Palazzo Civico della Penna, dove si trova la collezione del maestro futurista perugino, Gerardo Dettori, che è un maestro che guardava molto la velocità, le sue macchine, l'idea della velocità futuristica, il mondo deve camminare veloce. Con questo vi voglio dire che Perugia è una città molto viva culturalmente, e merita di essere visitata. Ma con questo vi voglio dire un'altra chiesa importante, la chiesa di San Pietro, perché la chiesa di San Pietro tiene dei quadri enormi del Vassillacchi, che è un maestro che si forma all'interno del Tintoretto e del Veronese, due maestri vedi. E queste opere sono grandi della fine del Rinascimento, perché sono opere che riguardano l'Antico e il Nuo Testamento. E vi voglio suggerire altre due cose. Nei dintorni di Perugia, se camminate, ci stanno tanti borghi. Pensiamo a Spello, pensiamo a Panicale, Masolino da Panicale, il maestro del Masaccio, pensiamo alla stessa Sisi, le Basiliche Pontificia di San Francesco, andatele a vedere queste cose, che sono molto belle. Perugia è veramente una grande città, un centro storico bello, ci stanno delle fotografazioni. La Porta Sole, la Porta Marsia, pensiamo che la Porta Sole è descritta da tante la Divina Commedia. Pensiamo alle torri, la Torre degli Sciri, la Torre San Pietro, dove si trova la Chiesa di San Pietro, che abbiamo detto prima, alcune opere Vassilacchi, un bel chiostro. Perugia è una città bellissima, culturalmente vivace. Le università, due università, l'università statale di Perugia, a Palazzo Gallegascio, e l'Università degli Stranieri, che forma gli stranieri la cultura italiana. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima, mercoledì prossimo, con Venezia. Tanti baci amici. Ciao.